6 febbraio 2012 dopo una giornata di tregua cioè ieri oggi è ricominciato a nevicare anche se molto finemente poi il problema il problema più alto è il vento alza la neve e rende difficoltoso anche camminare siamo davanti all'ufficio postale oggi ufficio postale aperto vediamo se riusciamo un po fare un giro per vedere come è la situazione 10 con pallazione sempre 6 febbraio 2012 questo è un posto stradale molto piaccato non ci permette di andare ecco ecco non vedete il vento che cosa che mi ha su questo diritto c'è stanza neve scusa siiii siiii girare quindi l'idea con una macchina infettiamo dopo presentiamo in effetti sshah l'attacciamo anche se si scivola molto ma anche l'attacchiamo tranquillamente con la nostra Pantera e anche stanotte un bel polistrada un bel polistrada mentre con la nostra Panterina riusciamo, bene o male, a raggiungere un po' tutte le zone in un bel polistrada con una marito mentre con la nostra canale con una marita il mio amico per cui è scimilvero Bravo Come together Come together Come together Come together